Il nostro brand è molto simile a quello del mercato. Normalmente siamo un po' over-performati perché le nostre attività fanno un po' la differenza. Stiamo andando benissimo, non siamo entusiasti perché non è ancora il periodo dell'entusiasmo, però quello che abbiamo fatto qua dimostra un po' quello che è il nostro spirito. Noi siamo presenti a TuttoFood perché vogliamo dimostrare di esserci, di essere un'azienda organizzata, di essere un'azienda che guarda il futuro. Infatti il tema del nostro stand è il networking. Il nostro stand si chiama The Hub proprio perché qua dentro non sono passati solo gli affiliati d'Italia, ma è passata la distribuzione, dolciari e alimentari. Noi siamo fortemente convinti che il mercato sia aperto, il mercato è di tutti. Ed è corretto che un gruppo come l'Università Italia, che ha l'ambizione, forse un filo di arroganza di considerarsi un primo nel suo canale, debba dialogare con tutti. Questo è il motivo per il quale siamo a TuttoFood, per poter parlare con tutti. Industria, distribuzione, trade, retailer, curioso. Siamo entrati in Italgrove. Sai che le due cose sono completamente diverse, Italgrove non ha finalità commerciali, però riprende un po' il senso di questo stand. Noi vogliamo parlare di temi che ci interessano. Il beverage ci interessa tantissimo perché c'è tanto sviluppo da fare. Noi contiamo che ci sia almeno il doppio del lavoro che stiamo facendo. Il progetto ambizioso invece sul quale vorremmo lavorare nei prossimi due o tre anni è quello dei dati. Il nostro mercato non è misurato. E allora stiamo mettendo insieme con dei partnership di alto livello sulla raccolta dati, sulla misurazione dei dati sul nostro canale.